Presentata al Comune di San Cataldo la porta unica di accesso. Si tratta di un servizio per i cittadini che ha come obiettivi favorire e facilitare l'accesso ai servizi socioassistenziali e sociosanitari, promuovere e potenziare la presa in carico integrata nell'accesso ai livelli essenziali di prestazione, migliorare la qualità e la tempestività dei servizi forniti, informare il cittadino su diritti e doveri. Consentirà inoltre di creare una banca dati. Già progettato il servizio è nella fase attuativa dell'affidamento della gestione delle attività fornite e riguarderà il distretto socio-sanitario D11, di cui San Cataldo è Comune Capofila e che comprende anche i comuni di Bonpensiere, Milena, Marianopoli, Serra di Falco, Montedoro e l'ASP numero 2. Le figure professionali previste che garantiranno l'attività di fronte e back office sono sei assistenti sociali per otto ore settimanali. L'importo complessivo presunto del servizio a base di gara è di circa 38 mila euro e si avvarrà dei finanziamenti ministeriali PAC, piani di azione e coesione. Le soluzioni sono in seno ai vari servizi che il Comune offre, per esempio io parlo dell'assistenza agli anziani, che è un servizio che noi eroghiamo, possono esserci anche il SIA, per esempio, che è un altro servizio di assistenza all'inclusione sociale, dove prevede degli assi di finanziamento e dei finanziamenti, così come tanti altri che ce ne sono sul discorso anche delle case popolari e tutti quelli che sono i bisogni che i cittadini hanno. Cioè in parole povere il SIA, il personale, cosa fa l'assistenza sociale? Accoglie, valuta, informa e rimanda a servizi anche che sono dislocati nel territorio. La porta unica di accesso si aggiunge all'area spazio gioco, un servizio dedicato alle famiglie e destinato a 20 bambini dai 18 ai 36 mesi. Scopo dell'amministrazione? Non effettuare tagli, ma anzi potenziare i servizi di assistenza alle fasce deboli. Soddisfatto il sindaco Modaffari. In questo modo noi riusciremo a capire, a comprendere quali sono gli effettivi bisogni dei cittadini, in quanto ci sarà una possibilità di interloquire con sei assistenti sociali che daranno loro spiegazioni su quelli che sono i servizi che loro possono ruire questi cittadini e di modo tale da poter pianificare i piani di zona successivi, in modo tale da tenere conto degli effettivi e le effettive necessità. Vuol dire che i progetti che saranno attuati sono dei progetti che avranno una ricaduta effettiva per i nostri concittadini.